Perché è proprio un'app contro la dispersione scolastica? È un altro dei tanti strumenti che l'amministrazione sta cercando di mettere a disposizione del territorio, delle famiglie, soprattutto delle famiglie che hanno maggior necessità di avere un orientamento nel mondo della scuola e la collaborazione portata avanti con le associazioni del terzo settore, gli amici della Mongolfiera in particolare, è stata un'occasione da gestire e da sfruttare perché proprio andava incontro a queste necessità che noi quotidianamente riscontriamo all'interno delle famiglie, soprattutto appunto le famiglie straniere che si trovano in un luogo a loro amico ma non totalmente conosciuto e per quanto riguarda appunto il mondo della scuola così variegato e complesso serve dare, illuminare il cammino nelle scelte, quindi orientare le famiglie nel poter condurre i propri figli nelle scuole più giuste, più corrette, più idonee a loro per far sì che questi bimbi diventino poi ragazzi e degli adulti che possano incidere positivamente sul territorio avendo fatto il percorso scolastico più corretto appunto in collaborazione anche con le associazioni del terzo settore fondamentali sempre di più in questo percorso. Apprado è stata definita come una bussola per orientarsi ma come funziona? Allora fondamentalmente è un'app con diverse sezioni in cui l'utente può cercare, poi prenotare e diciamo esplorare le scuole, le associazioni di volontariato o gli eventi del territorio che possono interessarlo quindi o l'utente in prima persona o facilmente anche i genitori dell'utente. Grazie. Grazie. Grazie.